Musica Benvenuti nella storica sede dell'Istituto Tecnico Agrario Cucuzza di Caltagirone che chiuse i battenti circa un anno fa ed è stato recentemente oggetto di un raid vandalico che nel riproporre il problema di sicurezza fa emergere allo stesso modo la contestuale necessità di interventi risolutori da parte delle istituzioni. L'ente di competenza è sì la provincia di Catania ma è anche vero che il problema è sotto gli occhi di tutti e non dovrebbe passare inosservato. La denuncia è stata lanciata da diversi cittadini su uno dei più noti social network dove oltre a denunciare pubblicamente gli effetti del raid vandalico hanno espressamente criticato i silenzi di tutti gli esponenti locali della deputazione nazionale, regionale e dell'amministrazione del Consiglio Comunale di Caltagirone. La critica insomma non ha risparmiato nessuno perché i balordi autori del raid si sono introdotti nel laboratorio di chimica avendo avuto accesso all'interno hanno poi sparso a destra e a manca molti documenti e arti scolastici custoditi negli archivi nonché infranto vetri e computerazia di tutto ciò che in quei momenti passasse fra le loro mani. Questo dunque è solo quanto si può notare a vista d'occhio in quanto sarebbe molto difficile accertare un'eventuale entità dei danni perché i materiali inventariati e altre documentazioni della scuola dovrebbero essere in possesso della presidenza dell'istituto o della stessa provincia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone hanno intanto compiuto un sopralluogo per accertare lo stato di degrado e attivare i canali istituzionali del caso ai fini di porre una soluzione al problema. Degrado e vandalismo insomma sono i due elementi che la fanno da padrona in una situazione che nel suo complesso non può e non deve passare inosservata. L'istituto della tecnica agrario Cucuzza di Caltagirone ubicato nell'antico quartiere Cappuccini del centro storico non ha più riaperto i battenti dal settembre a 2012 e proprio dal settembre a 2012 a oggi la struttura si è ridotta in queste condizioni. Grazie a tutti.